Mi domando quale sia la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver seminato. Basta girare un po' tutta la città nel centro e nelle periferie e questa città è ridotta, a Taranto, ad una gruviera, buche su buche. Ci troviamo oggi in quell'area compresa tra le vie giorgiche, bucoliche, nello specifico siamo in via Caduti di Nasseria, per capirci nelle vicinanze dei giardini Virgilio, proprio alle spalle, all'altezza, alle spalle anche di Viale Virgilio, giusto per inquadrare la zona. Vedete le immagini, penso che parlino da sole, il manto stradale è ridotto completamente a un campo da golf. Guardate, buche, buche, buche. Si potrebbe davvero, ora ironizzo per così sdrammatizzare, si potrebbe davvero giocare a golf. Guardate, buca, buca, buca. Al di là delle battute, io penso ai rischi enormi per le persone che abitano qui, soprattutto gente anziana che cammina, che attraversa la strada e che rischia matematicamente, c'è un'altissima percentuale di rischio di caduta. È matematico, perché questo è un percorso di guerra, non è la buca isolata e quindi fossero uno o due buche ancora ancora. Ma qui stiamo parlando proprio di una strage che c'è. Guardate, quindi danni per i pedoni, danni per gli automobilisti. Evidentemente queste zone sembrano non far parte di Taranto. Ecco l'ipocrisia, la falsità dell'amministrazione Melucci. Di Melucci e di Musillo, perché Melucci è stato il sindaco di Taranto, purtroppo. Ma Musillo è stato in maggioranza, aveva suoi rappresentanti in giunta, la cugina, aveva altri rappresentanti nelle società partecipate. Quindi non può, come dire, lavarsi le mani e dire che non c'entra niente con l'amministrazione Melucci, avendo governato con Melucci per quattro anni e mezzo. Ma vedere questo scempio è qualcosa di incredibile. I cittadini sono disperati, disperati, non sanno più veramente a chi santo votarsi. E ritorno qui, a distanza di due anni e mezzo, due anni, due anni e mezzo, già c'ero stato e praticamente non è cambiato nulla. Vuol dire che l'amministrazione Melucci è stata l'amministrazione del nulla. Da sindaco voglio mettere al primo posto la problematica della vivibilità urbana. Il cittadino non chiede grandi cose, ma almeno quel minimo che l'amministrazione Melucci non è stata in grado di assicurare. Perché il cittadino paga le tasse, quali servizi riceve. Non chiediamo le grandi opere, dicono i cittadini, ma almeno rendeteci la vita possibile, tranquilla. Evitate che possiamo davvero riportare danni fisici. Mi sembra banale la richiesta. È il minimo che si possa chiedere ad un'amministrazione un'amministrazione che non è stata in grado di assicurare neanche il minimo. Ecco il fallimento amministrativo. Dobbiamo rivoluzionare questa città e dobbiamo intervenire in modo pesante, molto pesante, sulla organizzazione dei lavori pubblici. È questo il grosso problema, il bubone da affrontare. Grazie.